Se volete tirare fuori i telefonini e riempire di stelle questo palazzo dei congressi ci fate un sacco piacere perché questa si intitola a due stelle. Se volete tirare fuori i telefoni e riempire di stelle questo palazzo dei congressi ci ci fate un sacco piacere perché questa si intitola a due stelle questo palazzo dei congressi ci ci fate un sacco piacere perché questa si intitola a due stelle questo palazzo dei congressi ci ci fate un sacco piacere perché questa si intitola a due stelle questo palazzo dei congressi ci ci fate un sacco piacere perché questa si intitola a due stelle questo palazzo dei congressi ci ci fate un sacco piacere perché questa si intitola a due stelle. ci fate un sacco piacere perché questa si intitola a due stelle questo palazzo dei congressi ci ci fate un sacco piacere perché questa si intitola a due stelle. ci fate un sacco piacere perché questa si intitola a due stelle questo palazzo dei congressi ci ci fate un sacco piacere perché questa si intitola a due stelle. ci fate un sacco piacere perché ci vents. ci fate un sacco piacere per questo palazzo dei congressi ciamano per questo palazzo ci fate un sacco piacere perché questo palazzo dei vaig e provare a rire e a dire che il paio in città con soli far sentire sorpresevo e con una mazzola in cuoio e questa gente che la fa piacere, che la fa piacere a cantare e questa gente che fa piacere, questa gente che ci fa piacere e questa gente che fa piacere, questa gente che fa piacere grazie 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 grazie